Ciao a tutti ragazzi, sono Pompazzone, bentornati sul mio canale. Oggi siamo qua a San Silo, prima volta almeno in un'emozione veramente grande. Siamo qua per la live reaction di Milan-Napoli, quasi in finale scelta, l'andata. Non so cosa stanno facendo, già stanno preparando qualche cosa sia qualcosa, noi ci vediamo dopo con le formazioni. Henry Alza ha detto che non vinciamo noi, quindi vediamo dopo. No, io ho detto così, io ho detto che vinca il migliore. Ma sono i punti. Vigliavo tutti con i visti oggi. E anche io non so, se non è buonissima, non è la partita. La partita non ti parte, non c'è niente. Grazie. Ma dai, è una partita non spontanea. Nella fine era la Champions League e sappiamo che qua è di casa. Napoli è un po' nuova, anche se è arrivato fino a questo punto. Grazie per una bella partita. Ma dai, chi lo sa, vediamo quanto pesa questo, questo si vede, questo attaccante nero che vaga. E' pesato tanto. Magari Alba si va bene. Ma dovrebbe giocare da tutta l'ora. No, è così. Tanto ti compito. Vediamo dopo. Anche a Milano. Dopo del Maradona. Ho incontrato Erri e Omar. Erri mi ha detto sicuramente non vincere voi. È bello, è bello. Ho ragione. Sono d'accordo. No, ma ha ragione. Ho incontrato anche Omar e ha detto che è una partita bella, però non si decide da tutto. No, sono superi. No, non vincerebbe il Milano. Forza a Napoli sempre e speriamo che vinca il Napoli. No. Che dobbiamo passare. Con il numero 16 Maria Con il numero 2 è il Capitano Davide Con il numero 4 è il Schmer Con il numero 1 è il Santo Con il numero 9 Con il numero 10 Con il numero 10 Con il numero 10 Con il numero 17 Raffa Uno stadio Una storia Una città Due colori Inolvani E ora 5 4 Tre, due, uno Sanzito Venete tu Uno stricatore E che tutto può accettare Noi Siamo VIVIA Grazie a tutti Già iniziamo bene, è passato un minuto e poi il posto non so se lo vedete ma ci siamo Ci siamo, ci siamo Mamma mia, mamma mia che tiro, mamma mia Grazie a tutti 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 Io vi ricordo di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale e noi ci vediamo con i prossimi video Ciao